La pace dei santi sia con voi. L'8 febbraio la Chiesa di Rito Romano celebra la memoria di Santa Giuseppina Bachita, che la Chiesa Ambrosiana celebra il 9 febbraio. Giuseppina nasce nel Sudan nel 1869. Rapita all'età di 7 anni, venduta più volte, conosce sofferenze fisiche e morali che la lasciano senza un'identità. Sono i suoi rapitori a darle il nome di Bachita, che significa fortunata. Nel 1882 viene comprata a Khartoum dal console italiano Calisto Legnani. Nel 1885 segue quest'ultimo in Italia, dove a Genova viene affidata la famiglia di Augusto Michieli e diventa la bambinaia della figlia. Quando la famiglia Michieli si sposta sul Mar Rosso, Bachita resta con la loro bambina, presso le suore canossiane di Venezia. Qui ha la possibilità di conoscere la fede cristiana e il 9 gennaio 1890 chiede il santo battesimo, prendendo il nome di Giuseppina. Nel 1893, dopo un intenso cammino, decide di farsi suora canossiana per servire Dio che le aveva dato tante prove del suo amore. Divenuta suora nel 1896 è trasferita a Schio, in provincia di Vicenza, dove muore l'8 febbraio 1947. Per 50 anni ha ricoperto compiti umili e semplici, offerti con generosità e semplicità. L'8 febbraio, nella memoria di Santa Giuseppina Bachita, canonizzata nel 2000, si celebra la giornata internazionale di preghiera e riflessione, contro la tratta di persone, istituita da Papa Francesco nel 2015. L'8 febbraio, la chiesa di Rito Ambrosiano celebra la memoria di San Girolamo Emiliani, fondatore della società dei servi dei poveri, detti i somaschi. San Girolamo Emiliani si dedicò a malati, giovani abbandonati e al riscatto delle prostitute. Nato a Venezia nel 1486, intraprese la carriera militare. Nel 1511, in prigionia, maturò la vocazione similmente a Sant'Ignazio di Loyola, ferito a Pamplona. Consacratosi a Dio, nel 1518 si prodigò in una carestia e in un'epidemia di peste a Verona, a Brescia, a Como e a Bergamo. Qui, nel paesino di Somasca di Vercurago, nacque l'ordine di chierici regolari. Essi intuirono il ruolo di promozione sociale delle scuole e ne aprirono di gratuite con un metodo pedagogico innovativo. Il fondatore, San Girolamo Emiliani, morì di peste nel 1537, mentre assisteva dei malati. Santo dal 1767, dal 1928, San Girolamo Emiliani è patrono della gioventù abbandonata. Le sacre reliquie di San Girolamo sono conservate a Somasca di Vercurago, nel santuario a lui dedicato. Auguri ai padri somaschi, una preghiera per le persone ancora oggi fatte schiave ed usate come oggetti. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di Santa Giuseppina e San Girolamo ed auguri a quanti l'8 febbraio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.